Buonasera a tutti e ben ritrovati su Udemy, si è conclusa la missione Medio Oriente del segretario del PD Bersani, cercheremo di ripercorrere le tante tappe di questo viaggio importante e affascinante che ha portato la delegazione del PD nelle città israeliane e palestinese e poi si è spostato in Libano e in Egitto. Ma non possiamo non parlare nel corso della nostra trasmissione anche di manovra finanziaria, dopo il via libera del Senato domani il provvedimento passerà alla Camera dove probabilmente verrà votato in serata, finalmente sono stati resi noti i contenuti di questa manovra, cercheremo di analizzare insieme e di vedere quanto peseranno sulle tasche degli italiani. Ma cominciamo subito con il viaggio in Medio Oriente della delegazione del PD insieme al segretario Bersani, anche il responsabile esteri del Partito Democratico, l'Apo Vistali che è qui in studio con noi, buonasera. Buonasera. Allora, ieri si è concluso questo viaggio che in quattro giorni vi ha portato in quattro paesi molto differenti con problematiche diverse, ci vuole fare un bilancio innanzitutto di questo viaggio? Bilancio sintetico è da dieci, non perché l'abbiamo fatto e è andato bene ma perché effettivamente siamo arrivati senza volerlo nei momenti più caldi e migliori, eravamo in Israele e in Palestina nel momento in cui si riuniva il quartetto a Washington, in Egitto nel momento in cui Piazza Tahrir si risollevava, in Libano il giorno in cui Unifil da New York chiedeva agli italiani di riassumere il comando un'altra volta, primi in assoluto a incontrare il nuovo primo ministro Mikati, non primi italiani, primi in assoluto, quindi il viaggio è stato veramente un gran successo. E come siete stati accolti? Devo dire che qui non vorrei che ce la cantassimo e ce la suonassimo da soli, però è un fatto oggettivo che notiamo da mesi a questa parte che lo standing, diciamo così, il livello dell'attenzione ai nostri confronti è molto cresciuto anche all'estero. Ora non vorrei citare il blogger di Piazza Tahrir che ha twittato me e Piero Luigi e future prime minister of Italy, magari e speriamo, però non c'è dubbio che l'attenzione sia da parte della nostra struttura diplomatica, ma anche dai nostri interlocutori è molto cresciuta e del resto non è usuale che un segretario di partito incontri due capi di Stato e tre primi ministri in quattro giorni. Qual era la necessità che vi ha portato a fare questo viaggio? Secondo me innanzitutto un partito nazionale europeista e con ambizione di essere uno dei grandi protagonisti della cena progressista mondiale non può non stare là dove il mondo si muove e agisce. Questo è ciò che mi ha spinto l'anno scorso a organizzare per Piero Luigi due missioni, una in Cina e una negli Stati Uniti, abbiamo fatto il G2 l'anno scorso e quest'anno non è un caso che abbiamo deciso per ora di andare in Medio Oriente che è come dire epicentro dei grandi rivolgimenti del mondo arabo e dell'Africa del Nord che commentiamo da settimane e in fine d'anno andremo in Brasile, ci sono anche lì varie questioni, il dopo Lula e il caso Battisti ma lo faremo a fine anno. Vaggiamo a ritroso, i primi due giorni siete stati a Gerusalemme e Ramallah dove avete incontrato le massime autorità israeliane e palestinesi, immagino che uno dei temi diciamo principali sia stato il processo di pace, crede che una pace duratura in questi territori sia possibile e le linee guida rimangono due Stati separati ed indipendenti? Sì, il principio due popoli due Stati non viene messo in discussione, il fatto vero è che noi siamo arrivati in un momento nel quale da di fatto due anni il negoziato di pace è interrotto e che per quanto le due parti dichiarino di essere pronte a risedersi al tavolo in ogni momento però nessuno fa questo primo gesto, questa è la ragione che ha spinto i palestinesi a questa mossa che è tutt'altro che disperata ma anzi mi pare molto lucida che è quella di cercare di portare la questione alle Nazioni Unite chiedendo il riconoscimento dello Stato palestinese, vedremo come va a finire perché in realtà secondo me nessuno di questi pensa che sia la fine di un processo ma l'avvio di un processo, noi abbiamo fatto come dire molta pressione affinché queste settimane non passino inutilmente ma che si possano davvero utilizzare per tornare a negoziare. Mersani ha criticato ONU e Europa per il poco impegno profuso al processo di pace, lei che ne pensa? Che cosa si dovrebbe fare di più? Che cosa si sarebbe potuto fare di più? Ma io credo che entrambe le parti debbano smettere di pensare che la comunità internazionale è schierata, l'Europa con i palestinesi e gli Stati Uniti con Israele perché non siamo davanti al derby Roma-Razio, credo che invece tutta la comunità internazionale a partire da Stati Uniti ed Europa che sono i due membri principali del quartetto poi insieme a Nazioni Unite e Russia agiscano su entrambi perché questo negoziato infinito ma che oggi ha prodotto pochi esiti, insomma trovi un suo compimento, la cosa impressionante è che mentre il mondo è cambiato negli ultimi 50 anni non è cambiato il conflitto sgaro palestinese, certo non ci sono più guerre in corso in questo momento, il West Bank e anche Florida dal punto di vista economico, ma insomma ci sono tutti gli elementi di fatto per chiudere un'intesa, segue la cosiddetta volontà politica. E l'Italia in questo, in questa scacchiera? Ma l'Italia è stata fino all'arrivo di Berlusconi, ma non perché Berlusconi è l'anno zero della storia, un membro ascoltato e influente anche perché è qui vicino come si diceva, non equidistante, quindi capace di far dialogare entrambe le parti. Devo dire che Berlusconi ha fatto una torsione delle sue e ha portato il paese a essere il paese amico di Israele, tutti siamo amici di Israele, ma non è questo che serviva ed è la ragione per la quale anche in vista del voto delle Nazioni Unite di settembre noi abbiamo fatto appello e qualcosa di più affinché l'Italia non si discosti da questa vocazione mediterranea. Non vorremmo che in un'Europa che si divide, magari, e già questa è una brutta notizia, fra chi vota a favore e chi si astiene, ci fosse un paese da solo che decide di votare contro e che siamo noi. L'altra tappa del vostro viaggio è portata invece al Cairo, il segretario Bersani è voluto essere nella piazza simbolo della primavera araba, piazza Tahrir. Innanzitutto lei che sensazione ha avuto entrare in questa piazza dove tutto è cominciato? Beh la sensazione è molto forte anche perché il viaggio ha messo, la missione ci ha messo a contatto con emozioni di segno molto diverso e questa è stata un'emozione di movimento, di piazza. Ci tengo a dire anche grazie all'ottimo lavoro che ha fatto Giacomo Filibe su questo settore quando siamo andati il mese scorso già in Egitto a preparare questo tipo di missione di luglio, che nella piazza il 12 luglio non si sarebbe entrati se non avessimo avuto i nostri amici, i nostri contatti. C'erano stati degli comunicati dell'esercito molto duri che ammonivano la piazza, non avevano gesti immaturi, che avrebbero spinto probabilmente, anzi avevano spinto anche le strutture diplomatiche a grande cautela, però io ho detto con molta amicizia al nostro ambasciatore che è bravissimo al Cairo che ogni serratura si apre se hai la chiave giusta e noi avevamo la chiave giusta per andare in piazza Tahrir e quindi al suono di He is the guy who will defeat Berlusconi, quindi questo è l'uomo che batterà Berlusconi, siamo entrati nel cuore di queste tende, un'atmosfera molto vibrante, molto animata, tanti ragazzi evidentemente, donne, bambini, la biblioteca che presta i libri, quelli che ci dormono dentro, una sensazione di movimento molto grande e rispetto a noi che viviamo in un paese in cui si dice almeno che i ragazzi di oggi siano invece così disillusi rispetto alla democrazia e alla libertà, lì si rispiava davvero a pieni polmoni. Ha visto un po' una differenza. Eh beh per forza, quando la democrazia è data, la libertà è data non se ne apprezza il valore, quando si rischia forse anche la vita in certe circostanze perché sono circa 600 i caduti della rivoluzione egiziana dei primi mesi e quindi c'è chi la vuole difendere, chi vuole difendere quei valori allora si capisce che parole antiche come democrazia e libertà hanno un grande valore. Nei giorni precedenti alla vostra visita ci sono state delle proteste contro il governo provvisorio, secondo lei quanto ci vorrà ancora affinché la situazione di questo paese si normaligli? Ma secondo loro, secondo quelli che abbiamo incontrato, non soltanto i giovani di piazza Tahrir ma anche i candidati, alcuni dei candidati più accreditati, il Baradei, Amre Moussa e anche la nuova leadership dei fratelli musulmani perché si sviluppi davvero un quadro di tenuta democratica nel paese se con 4-5 anni. Il tema vero è cosa succede adesso perché l'Egitto dovrebbe andare a votare in autunno per le elezioni legislative e dovrebbe al termine di quelle elezioni varare una commissione che farà la nuova costituzione, dopo la quale arriverà il nuovo presidente. Allora il tema è vincerà l'Egitto, virgolette, democratico e liberale fin da subito o vi sarà un passaggio, come molti pensano, attraverso la maglia più rassicurante per il loro popolo dei fratelli musulmani ma che diventa più inquietante per chi guardi da occidente questo tipo di paese. Ricordiamoci sempre che l'Egitto è un terzo dell'intero mondo arabo con i suoi quasi 90 milioni di abitanti. E l'Italia e l'Europa in questo contesto possono aiutare? Assolutamente sì, secondo me assolutamente sì e lo devono fare senza paternalismo, senza ricette preconfezionate, mi viene da dire come abbiamo fatto noi, come stiamo facendo noi, cioè andando, mostrando amicizia, solidarietà, parlando con tutti, con tutti, ingaggiando tutti, anche i fratelli musulmani che hanno un rapporto più difficile con la democrazia liberale, non hanno bisogno di qualcuno che col dito alzato gli spiega come gira il mondo, ma hanno bisogno di qualcuno che li ingaggia, li fa riflettere sulla laicità dello Stato, dice che vogliamo avere i rapporti con loro pur non rinunciando ai nostri principi, gli pone il tema della libertà religiosa, cioè tutte questioni che devono ingaggiare le due sponde. Uno scambio. Uno scambio, una partnership, non un rapporto pedagogico, ma una partnership. L'ultimo paese invece che avete visitato è il Libano, qual è la situazione in questo paese? Perché se ne è parlato tanto un tempo fa, adesso se ne parla sempre di meno. Purtroppo in generale sulla politica estera c'è un'attenzione che va e viene a onde, quello che voglio dire è che il Libano vive adesso una fase fragile, fragile perché il primo ministro Mikati che ha visto come prima delegazione politica non libanese noi, da quando ha ricevuto la fiducia, abbiamo avuto una piccola fortuna, però è uno che veniva da un tentativo di formazione del governo con la coalizione di opposizione di Ariri, fallito, un tentativo di formazione di un governo tecnico fallito e che si è concretizzato invece con una formazione di governo che mette insieme sia elementi filosiriani che elementi dell'opposizione, con qualche partito che ha fatto il cosiddetto ribaltone. Quindi è una situazione fragile anche se non ci sono tensioni di piazza, l'opposizione non mette sotto discussione la formazione di questo governo. La tappa fondamentale della sosta libanese era però la visita a Unifil, cioè al contingente italiano che il governo Prodi mandò nel 2006 come forza di interposizione durante la guerra Israele-Libano e noi siamo andati nel giorno in cui il governo attuale propone la riduzione e nel giorno in cui invece Unifil da New York chiede agli italiani di riprendere il comando dell'intera missione. Quindi credo sia stato molto importante che Bersani abbia fatto comprendere i ragazzi che sono là, che sono lì, al di là delle differenze che noi abbiamo e che sono forti, su un mandato dell'intero paese. Perché là il loro lavoro è veramente apprezzato. Questa richiesta dell'ONU secondo lei è la prova quindi di un apprezzamento del lavoro in Libano? Assolutamente, come stavo dicendo esiste un marchio italiano, talvolta noi siamo molto autoironici sull'Italia quando andiamo all'estero e talvolta ne abbiamo anche ragione. Questo è un caso invece, è il caso di dire che il marchio, il segno, la modalità con la quale i militari italiani stanno nelle missioni internazionali è riconosciuta in Afghanistan come nei Balcani, come in Libano, come è stata riconosciuta in Africa. Cioè professionalità militare quando c'è da fare i militari, ma unito a una grandissima umanità, umanità nel rapporto con le persone, con i villaggi, con le zone diciamo controllate, che fa sì che ad esempio il contingente militare in Libano girando i villaggi nella zona di pertinenza svolge oltre 600 interventi medici a settimana. Arriva con l'ambulatorio mobile, visita bambini, vecchi, anziani, gente che non potrebbe accedere alla sanità privata. Ecco questa roba qui non la fanno né gli americani, né i francesi, né gli spagnoli, nessun altro, soltanto noi. Bersani ha detto proprio a riguardo di questo, si può sempre ragionare di ristrutturazione delle missioni all'estero ma bisogna capire con quali criteri. Se risponde a una strategia ad un problema opposto da una forza politica, questa missione è un successo e ha favorito il più lungo periodo di pace, la nostra presenza qui è ancora fondamentale. Il PD quindi non mette in discussione la presenza appunto delle missioni umanitarie come vorrebbe la Lega? No, no, assolutamente. Io sottoscrivo la dichiarazione del segretario nel senso che è disponibile a discutere di tutto, non ci sono tabù, ma le cose non si possono fare perché la Lega è esilazionista e perché c'è da risparmiare qualche cosa e si sforbicia qua e là. Prima si fa una scelta politica e in base a quella scelta politica poi il resto viene di conseguenza. Francamente in Libano le autorità libanesi ci hanno comunicato come il periodo più lungo di tregua, di assenza di conflitto, cioè cinque anni da quando quella missione è lì non si era mai verificato e l'ha raggiunta con i fil due. Insomma noi davanti a un successo vogliamo ributtare il paese nel rischio di un caos? Secondo lei il Libano ha sentito, è stato influenzato dalle rivoluzioni dei paesi arabi? Ma il Libano è anomalo come paese, anomalo perché è un paese che non ha una sua lingua ma ne parla quattro diverse, vive su una base di una lottizzazione confessionale delle cariche dello Stato, fra sciiti, sunniti, cristiani, ha un sistema elettorale che rappresenta le singole comunità e le singole faglie territoriali, quindi è un piccolo mosaico, non è la classica contrapposizione fra sciiti e sunniti o tra un regime teocratico o autocratico e una massa diseredata, anzi a Beirut ogni volta che il fragore delle bombe cala, ed è successo ovviamente molte volte, esplode la vita, il gusto, il lusso, bancarottieri e finanzieri tutti vanno lì, Beirut è veramente una dolce vita alla medio orientale, quindi il vento non era lo stesso vento che abbiamo visto a Tunisi o al Cairo, è però invece un vento che può risentire pesantemente sia del conflitto israelo-palestinese, per la presenza dei molti palestinesi, dei campi profughi, di alcune dispute territoriali di confine con Israele e che sta risentendo pericolosamente della destabilizzazione siriana, che ovviamente è il paese che esercita con la sua manona una forma di protettorato da cui origina per altro proprio il conflitto che negli ultimi anni ha riportato il Libano a cercare una sua autonomia. Approfondiremo poi questi discorsi in altra sede, ma visto che prima parlavamo della Lega, devo farle una domanda sulla politica nazionale, perché vista da lontano l'Italia com'è? Ma vista da lontano l'Italia com'è, l'Italia riesce a non utilizzare gli asset di cui dispone e quindi è come un pugile che fa la box con una mano sola, è un grande errore, nel senso che noi in questo mondo, che è un mondo grande, in cui dunque l'Italia non è una grande potenza, però abbiamo un grande vantaggio che non dovremmo mai sottovalutare. Molti paesi lottano per avere una loro identità, cioè per essere ricordati nel mondo, per sapere di chi si parla. Non fatemi fare esempi, ma ci sono molti paesi che se uno andasse a chiedere cosa pensi tu di questo paese nel Sudafrica o nell'estremo Pacifico ti direbbero è, non so nemmeno dov'è. L'Italia ha un'immagine definita, molto definita, siamo egemoni in una serie di questioni sul gusto della vita, sul lusso, sull'enogastronomia, sulla cultura e abbiamo una grande simpatia, una grande simpatia e questo è veramente un dato diffuso dal Polo Nord e dal Polo Sud. Dopodiché negli ultimi anni abbiamo esibito un profilo penoso. Forse l'abbiamo dato un po' per scontato. Secondo me la cosa che io trovo più singolare, alla quale non mi sono mai rassegnato, è che per molti anni Berlusconi è riuscito a convincere gli italiani, ovviamente quelli che lo votavano, ma forse anche qualcuno fra di noi, che la politica estera era la cosa che gli riusciva meglio, che lui era uno di quelli che dava del tuo al mondo, che arrivava a lui e risolveva le situazioni e chi come me si occupa di queste cose da molti anni soffriva come una bestia perché sapevo che bastava andare fuori dai confini per capire che il suo, il fattore B era una penalità, un handicap, che noi eravamo il paese un po' smargiazzone, del tycoon diventato primo ministro, dell'uomo che racconta, promette e non mantiene e però insomma gli italiani un po' ci hanno abboccato a questo, ahimè adesso stiamo pagando un po' il conto, ma la simpatia sull'Italia è veramente un grande capitale da non disperdere. A proposito di promesse, oggi è anche il giorno della manovra finanziaria, una scelta quella del PD di velocizzare l'iter per approvare questa riforma, una scelta di responsabilità per un governo che invece non è responsabile e è poco efficiente? Il governo non è responsabile, lo dimostra il fatto che fino alla prima frustata ricevuta dai mercati finanziari si era ancora a discutere di ministeri al nord e di piccole marchette politiche da soddisfare. Non è responsabile nella misura in cui nella giornata di ieri e di oggi ancora si è capito che ad esempio i liberi professionisti che hanno un doppio lavoro e che fanno anche i deputati che vanno a difendere gli orgogli di casta per non pagare un prezzo a questa manovra e questo ci spinge a dire che noi ci siamo fatti altro che responsabili. Ovviamente questo vuol dire che non votiamo quella manovra, consentiamo tra Camera e Senato che ciò che andava fatto in tre settimane si faccia in tre giorni, ma sia chiaro se i mercati oggi hanno picchiato sull'Italia in questi giorni, lo hanno fatto perché il governo non c'è più, non l'opposizione non è abbastanza responsabile, il governo non c'è più e quando un primo ministro non soltanto a ogni caduto nelle missioni di pace allarga le braccia per dire che dipendesse da me non ce l'avrei mandati, che è il modo di far sentire inutili e sbagliati quei ragazzi che lavorano là, ma addirittura passa il tempo a sconfessare il proprio ministro dell'economia, a dire che il ministro dell'economia ha come unico obiettivo quello di fargli la pelle, è evidente che i mercati che sono fatti di pescecani che aspettano ogni forma di debolezza per guadagnare e si buttano appunto a pesce come fanno i pescecani. Insomma noi abbiamo detto manovra, non la condividiamo, la si approva e si stabilizza il paese, ma questo governo prima va a casa e meglio è. Ma questa manovra era quella che serviva per questo paese? La manovra serviva perché l'Europa chiede questo, quello che però il paese deve, il paese l'ha compreso ahimè, non lo comprende il governo, è che deficit e debito sono due numeri percentuali, sono due numeri frazionari, questo vuol dire che da un lato c'è l'entità sulla parte alta di quel numero del deficit appunto e del debito, ma sotto c'è la crescita del paese e io posso tagliare quanto voglio, ma se il paese non cresce, cioè se non cambia il numero sotto, quel deficit e quel debito continueranno a riproporsi. Allora questo è un paese dove Tremonti ha sicuramente tenuto i cordoni stretti, ma dove il governo non ha avuto un ministro per l'Europa per otto mesi, dove non c'esiste una politica industriale, dove dunque non c'è crescita, questo è il vero problema del paese oggi. Bene, benissimo, allora ringraziamo Lapo Pistelli per essere stato con noi, lo aspettiamo di nuovo presto in studio, rimaniamo sempre sulla manovra finanziaria, sentiamo che cosa ha detto il ministro Tremonti nel suo intervento oggi al Senato, dove lo ricordiamo questa mattina è stata votata la fiducia sulla manovra finanziaria. Senza il pareggio di bilancio, il debito pubblico, un mostro che viene dal nostro passato, divorerebbe il futuro nostro e dei nostri figli. Il paese ci guarda, guarda il governo, guarda la maggioranza, guarda l'opposizione. Diversi certo, ma oggi qui non troppo divisi e per questo sono orgoglioso di essere qui oggi con tutti voi. Grazie. Il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani ha incontrato questa mattina il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Secondo quanto si apprende dal colloquio che si è svolto a Palazzo Cocca, si sarebbe concentrato sulla situazione economica del paese e sulla manovra messa in campo dal governo. Invece resta un'incognita il silenzio di Berlusconi in questi giorni così difficili per il nostro paese. Secondo alcuni cronisti l'assenza prolungata dalla scena nasconde un calcolo, quello di lasciare ad altri, a Napolitano, a Tremonti e all'opposizione, la responsabilità della stangata. Sentite invece come ha interpretato Anna Finocchiaro nel suo intervento di oggi al Senato il silenzio di Berlusconi. Vi abbiamo proposto norme che mettessero ordine nel bilancio e avete detto no. Vi abbiamo chiesto delle liberalizzazioni che potevano farsi subito e ci avete detto no. Seppure questo delle liberalizzazioni è uno dei capitoli sui quali l'Europa ha attirato l'attenzione e ha sottolineato l'importanza anche negli ultimi recenti colloqui che lei ha avuto in quella sede. Chiedete sacrifici agli italiani e non siete stati capaci di fare tre cose che vi avevamo chiesto. Allineare le retribuzioni di parlamentari al parametro europeo, ancorare i vitelizzi parlamentari al criterio contributivo, tassare le pensioni dei parlamentari allo stesso modo con cui vengono tassate le altre pensioni d'oro e riordinare il sistema delle province. Erano quattro cose che sono stati oggetto dei nostri emendamenti e di cui non c'è traccia in questa manovra finanziaria. Vi avevamo proposto un piano industriale per la pubblica amministrazione che riorganizzasse gli uffici periferici recuperando risorse e recuperando efficienza e ci avete detto no. Vi abbiamo chiesto più regole e ci avete detto no. Vi abbiamo chiesto alcune misure per la crescita, ovviamente avete detto no e vi avevamo proposto anche una soluzione moderna sul capitolo internazionalizzazione delle imprese. Avete risposto con una burocratizzazione della questione, eppure si parlava all'intero mondo imprenditoriale italiano e lei ha ragione quando dice che la legge non fa la crescita, però può impedirla. E tutte le volte in cui in questi tre anni vi siete rifiutati di rimuovere con legge gli ostacoli strutturali alla crescita voi avete mancato l'obiettivo. E mentre in qualunque Paese in questo tempo, in queste circostanze il Capo del Governo sarebbe stato in contatto diretto e continuo con il Parlamento, con i suoi ministri, con la Banca d'Italia, con l'Europa, con i circoli finanziari, il vostro Presidente del Consiglio è rimasto chiuso nella sua cassaforte come paperon dei paperoni, abbracciato al sacco dei dobloni, piangendo perché gliele stavano portando via. E lo avete sentito da Anna Finocchiaro, cominciano ad emergere i tagli che investiranno gli italiani a causa di questa manovra, ad essere colpiti soprattutto le famiglie, l'istruzione e gli asili nido. Secondo Stefano Fassina, responsabile Economia del PD, se Tremonti ritiene davvero che la politica non può più fare errori, dovrebbe dimettersi con tutto il governo Berlusconi. Insieme hanno approvato, sfruttando l'emergenza, una manovra vergognosa sul piano dell'equità e classista per i colpi che infligge ai redditi bassi e medie. Per l'esponente dei democratici hanno salvaguardato le rendite finanziarie, i trattamenti dei parlamentari, le corporazioni meglio rappresentate in Parlamento. Hanno colpito i lavoratori, i pensionati, gli studenti. È inaccettabile l'Italia non esce così dal tunnel. E noi su questo argomento abbiamo sentito anche il relatore di minoranza oggi al Senato, Giovanni Legnini, che ci spiega perché questa manovra proprio non va. Senatore Legnini, la manovra che oggi viene licenziata dal Senato passando alla Camera è una manovra deludente, che ha un effetto depressivo sul PIL. Perché? Noi abbiamo dato questo giudizio dall'inizio. Il giudizio negativo di inaffidabilità, inefficacia, iniquità della manovra è andato via più rafforzandosi. Non abbiamo mai confuso e non confondiamo l'assunzione di responsabilità richiestaci dal Presidente della Repubblica sulla rapidità dell'esame parlamentare con il giudizio di merito, che era e rimane molto negativo. Quali sono stati gli emendimenti accolti? Le proposte che sono state recepite poi in quelle del relatore sono relative all'eliminazione della misura iniqua della indicizzazione delle pensioni medio e basse, il dossier titoli, questa patrimoniale per i piccoli e piccolissimi risparmi, la norma cervellotica sulle concessioni autostradali e qualcosa sul processo del lavoro. Sul resto, purtroppo, a partire da un pacchetto per la prima volta chiaro, preciso sui costi della politica, sulle indennità dei parlamentari, sui vitalizi, sull'apparato pubblico nel suo compresso, compreso le province, la risposta è stata no. Nonostante questo l'opposizione ha fatto la sua parte nel nome della responsabilità? Assolutamente sì. Noi riteniamo che la decisione politica tempestiva, anticipatoria, di lunedì abbia contribuito in modo risolutivo a rassenerare i mercati. Ce ne danno atto tutti, di questo naturalmente siamo contenti. Nessun pentimento per il fatto che poi la maggioranza sia blindata, anzi la rivendicazione di aver fatto la cosa giusta per il Paese. E aspettando che la manovra passi domani alla Camera per essere approvata, questa mattina Montecitorio ha parlato invece di immigrazione, di rimpatri e di libera circolazione dei cittadini comunitari. All'interno di questo provvedimento ha anche la norma che aumenta la detenzione nei CIE fino a 18 mesi. Livia Turco, intervenendo alla Camera, ha definito questa norma disumana, ingiusta, inefficace e costosa. Sentiamo l'intervista di Beatrice Rotiloni a Livia Turco. Livia Turco, l'Aula della Camera ha approvato oggi il decreto in maniera di immigrazione relativa al rimpatrio dei clandestini. Che legge è questa? Teoricamente avrebbe dovuto recepire la direttiva europea sul rimpatrio che mette al centro il ritorno volontario nel Paese e corregge la nostra legislazione repressiva, in particolare una norma della Bossi Fini che prevedeva la detenzione in carcere. In realtà il modo con cui il Governo ha recepito questa direttiva non cambia nulla della nostra impostazione repressiva, anzi aggiunge un aspetto che consideriamo disumano, ingiusto, inefficace e costoso, che è il trattenimento nei centri di identificazione fino a 18 mesi delle persone che non hanno il permesso di soggiorno e che soltanto devono essere identificate. È per questo che il Ministro Maroni evita che parlamentari e giornalisti si reachino nei CIE? Immagino che sia per questa ragione perché indubbiamente quando in un posto si viene trattenuti fino a 18 mesi, quando si è privati della propria libertà fino a 18 mesi, quel luogo non è più un luogo di identificazione ma diventa un luogo di detenzione. E vi segnaliamo che il Forum Immigrazione del PD ha promosso un appello per dire no al carcere per gli innocenti. Se volete firmare per sostenere questa iniziativa collegatevi al sito www.partitodemocratico.it E rimaniamo alla Camera ma stavolta per parlare di guai giudiziari che coinvolgono il deputato del PDL Alfonso Papa. Colpo di scena oggi nell'aggiunta per le autorizzazioni della Camera. Il relatore Francesco Paolo Sisto ha ritirato la sua proposta di votare contro la richiesta di autorizzazione all'arresto trasmessa dal GIP di Napoli contro Papa. La giunta si è aggiornata per domani alle 12 quando fa sapere il presidente Castagnetti si voterà comunque sul caso del parlamentare coinvolto nell'ichiesta P4. A spiegarci meglio che cosa è successo oggi in giunta e perché, Marilena Samperi, segretario della giunta per le autorizzazioni e componente del comitato parlamentare per i procedimenti di accusa. L'intervista è sempre di Beatrice Rutiloni. Oggi non c'è stato il voto in giunta per le autorizzazioni a procedere sul caso Papa. Perché? Cos'è successo? In modo assolutamente irragionevole perché la decisione ormai è matura. Il relatore ha chiesto un ulteriore rinvio per approfondire lo studio della pen driver che l'onorevole Papa ha depositato in giunta. Questi sono documenti che la giunta già nella riunione del 22 giugno aveva ritenuto completamente e assolutamente ininfluenti ai fini della decisione e quindi aveva deciso di non acquisirli. È chiaro quindi che non è vero che è necessario approfondire questi temi. La verità è che la maggioranza è spaccata, ci sono posizioni divergenti dentro la Lega, ci sono posizioni divergenti tra la Lega e il PDL e non si vuole andare al voto. Ma noi abbiamo l'obbligo di pronunciarci entro domani. PD Oggi finisce qui, vi lasciamo con l'intervista di Alessandra Dell'Olmo a Massimo Fagioli, autore del libro La Marionetta e i Burattini, edito dalla casa editrice Asinono Doro, ricordandovi che questo libro sarà presentato domani alle 21.30 alla Festa Democratica di Roma e poi a seguire l'intervento di Anna Finocchiario oggi al Senato contro la manovra finanziaria del governo Berlusconi. Per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani alla stessa ora. A tutti una buona serata. Grazie.